parlo con te perché dicono che tu sei un pappagallo e che ripeti le cose che dicono gli altri invece tu sei meglio di certi politici che loro sono dei pappagalli caro Romeo perché loro ripetono sempre le stesse cose e ingannano il popolo italiano cari amici il pappagallo è un animale serio, sono i nostri politici che dicono le cose ormai da 20, 30, 40 anni, vi stanno prendendo in giro vi ripetono sempre le stesse cose nel 2011 hanno ceduto le armi e si sono venduti a Monti perché erano dei cialtroni non sapevano fare niente, adesso sono tornati alla carica sempre le stesse facce, sempre gli stessi cialtroni sempre a dirvi le stesse cose Romeo dammi una mano e mandali a farsi benedire caro Romeo insieme a noi insieme al popolo italiano finalmente l'Italia che si libera chi da questi cialtroni, da questi mascarzoni grazie Romeo, dillo pure tu che sono cialtroni grazie 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 grazie